ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video del canale il signor rosso nero benvenuti sul post partita di milan benevento partita semplice per il milan sin dall'inizio del primo tempo è stata una partita sempre di controllo e di gestione del milan anche perché siamo partiti molto bene con il gol di cialanoglu subito al sesto minuto del primo tempo abbiamo creato anche delle occasioni e poi nel secondo tempo abbiamo chiuso la partita il benevento ha cercato di creare qualcosa ma dire la verità non ci ha impensierito per la prima volta credo che è stata una vittoria tranquilla dopo tanto tempo adesso dobbiamo rimanere concentrati perché settimana prossima sabato prossimo dobbiamo affrontare la juventus allo stadium e non sarà una partita per niente facile e se andiamo come siamo andati all'olimpico contro la lazio sicuramente ne prenderemo altri tre gol e anche lì quindi io penso e spero che il milan abbia imparato la lezione della lazio sono dell'idea che comunque sarà ancora molto molto difficile per andare in champions league perché le altre squadre hanno un calendario più semplice stanno anche meglio a livello fisico ma noi dobbiamo dobbiamo vincere con la juventus se noi vinciamo con la juventus abbiamo fatto un ottimo passo verso la champions league dal mio punto di vista perché potremmo arrivare già contro il torino un po più tranquilli per il quarto posto e anche per anche un contro il cagliari insomma potremmo chiuderla definitivamente ma noi dobbiamo pensare che dobbiamo prima di tutto concludere la stagione nella maniera più dignitosa possibile cercando di portare a casa più punti possibili e richiedo il massimo impegno da parte di tutti quanti perché so che la stagione è stata lunga è stata faticosa anche per noi tifosi è stata faticosa anche perché non abbiamo avuto occasione di ad esempio andare allo stadio a sostenerli e questo secondo me nei momenti un po più difficili il milan avrebbe avuto bisogno di un sostegno almeno di una curva a sud calorosa magari in partite apparentemente poco importanti ma che con il pubblico sicuramente sarebbe stato tra virgolette più semplice per il milan affrontare certe partite mi viene in mente contro il sassuolo mi viene in mente contro la sampdoria anche contro lo spezia insomma tutte partite che secondo me con il pubblico a san siro pieno o comunque la curva a sud fuori casa il milan avrebbe affrontato diversamente devo fare i complimenti all'inter che è campione d'italia stagione quella di conte straordinaria dal punto di vista del campionato forse a livello di gioco non è stata la migliore inter della storia ma devo riconoscere che è stata un inter che nei momenti decisivi ha spinto ha fatto grandi partite ha battuto tutte quante le squadre con chi più difficoltà con chi meno difficoltà ad esempio con l'atalanta ha sudato la vittoria ma ha ottenuto tre punti contro un atalanta ad esempio contro di noi ha vinto il derby insomma le partite decisive l'inter ci ha messo carattere e l'ha portata a casa quello che un po ci è mancato a noi sinceramente in alcune partite quindi l'inter meritatissimo lo scudetto il milan insomma per ora è al secondo posto ma secondo me la seconda forza del campionato quest'anno è proprio l'atalanta perché a livello di andatura a livello di prestazioni di gioco e anche di costanza nei risultati l'atalanta risulta migliore poi vedremo noi comunque per tre quarti del campionato siamo stati secondi adesso dobbiamo cercare assolutamente di vincere contro la juventus e probabilmente vincendo con la juve possiamo dire di poter meritare la champions league ragazzi ditemi la vostra commentate qui sotto iscrivetevi al canale youtube e condividete il video se vi va e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi